Dopo, cos'erano, tre quarti d'ora, il treno parte, si ferma a Mandello dell'Ario, mezz'ora, perché purtroppo nel 2019 abbiamo ancora solo una rotaia che va in due direzioni, aspettiamo mezz'ora, ripartiamo, dopo cinque minuti riaspettiamo un'altra mezz'ora perché purtroppo qualcuno non stava bene nella stazione di Varena. Questo è il brutto biglietto da visita che diamo alla nostra città, purtroppo si spera sempre che le cose cambino. La rabbia nelle parole di uno dei centinaia di passeggeri rimasti intrappolati nei vagoni fermi tra Lecco e Varenna. Le frecce tricolori non sono riusciti a vederle nemmeno dai finestrini. Con vogli presi d'assalto, treni con ritardi di ore, persone soccorse a causa di malori per la ressa. I passeggeri che ieri non hanno potuto assistere allo spettacolo della pattuglia acrobatica bocciano le ferrovie. Disagi anche lungo le strade, ma sono stati soprattutto i trasporti su ferro, dicono i più, a non funzionare. Secca la replica di Trenord. Il servizio non poteva essere potenziato ulteriormente, si legge in una nota, l'infrastruttura ferroviaria si estende per 90 chilometri a binario unico e a vincoli ben precisi. Sono state istituite quattro corse straordinarie. Ogni altra aggiunta non sarebbe stata possibile. Non possono essere utilizzati i treni a doppio piano perché non passano nelle gallerie tra Lecco e Colico. I disagi sono avvenuti a causa del forte afflusso di persone in contemporanea anche con Morbegno in cantina. Tutte le elezioni nei confronti di Trenord sono il frutto di declarate incompetenze. La manifestazione è stata organizzata a prescindere dalle capacità ricettive. Parole che hanno sollevato la rabbia dei sindaci del lago. In due ore è passato solo un treno. Tramite il prefetto chiederemo un incontro. Prendersi degli incapaci dalle ferrovie è inaccettabile, dice il primo cittadino di Mandello, Riccardo Fasoli. Anche lui rimasto a piedi ieri. Trenord è stato coinvolto fin da subito nell'organizzazione e mai ci sono stati fatti appunti, aggiunge il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni. Conosciamo i problemi della linea, ma contrariamente a tutte le altre realtà coinvolte, mi pare che non abbiano fatto alcuno sforzo. Vorrei capire come pensano di organizzare le Olimpiadi. Il luogo non era adatto, allora sul lago non si può programmare più nulla. La verità è che sono state l'anello debole di un'organizzazione che al netto dei disagi previsti ha tenuto. Chiederemo un incontro non per polemizzare, ma per gestire meglio gli eventi futuri.